Seminavano il panico tra i loro coetanei, obbligandoli con aggressioni e minacce a consegnare denaro e oggetti di valore. Una vera e propria baby gang che spadroneggiava nel centro storico e nei principali luoghi di ritrovo della città di Corato. Il capo era un 19enne del posto, Michele Patruno, noto a tutti con il soprannome di Topolino, già sottoposto ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. La polizia lo ha arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della procura. Il risultato del lavoro degli agenti del commissariato locale che hanno condotto le indagini sulle attività della banda. Due, gli episodi principalmente contestati dagli inquirenti. Il primo, avvenuto nel maggio scorso, quando il 19enne aveva costretto un ragazzo a consegnargli alcuni preziosi che la vittima, per paura di ritorsioni, aveva a sua volta sottratto alla nonna materna. Il giovane, una volta impossessatosi di orecchini, collane e anelli di famiglia, li aveva dati al capo della gang che, dopo essersi recato in un negozio compraoro, si era procurato somme di denaro. Il secondo caso è quello di una tentata estorsione, avvenuta pochi giorni dopo ai danni di un altro adolescente, obbligato dallo stesso 19enne a mostrargli il contenuto del suo portafogli. Deluso per l'assenza di denaro, il baby bosto Polino aveva anche minacciato di aggredire la vittima. Dopo le formalità di ritto, il giovane è stato trasferito nel carcere di Trani e accusato dei reati di estorsione e tentata estorsione. Gli altri membri della banda, tutti i giovanissimi residenti a Corato, sono stati identificati.